Buongiorno a tutti, ecco un po' incredibilmente dove siamo, non ci crederete, ma siamo a Zapponeta in preparazione alla festa della Madonna della Misericordia, che è sempre la matronale oggi è in preparazione alla festa, stanno montando adesso le luminarie, accengiamoci per un attimo ad entrare in chiesa allora, la chiesa parrocchiale di San Michele 80, rimaniamo qui, sta in preparazione magari il parato è qui, il parato blu con la Madonna della Misericordia, che è completamente un quadro questo è un po' il programma, questa è un po' il Zapponeta oggi è accensione delle luminarie, poi sparo i montanti domani, sparo, sparo, sparo andiamo da questa parte dov'è vero? da, da mio papà ah, ok ci avviamo da questa parte e abbiamo altre luminarie prendiamo questo lato, dai con questo adesso ci avviamo perché dobbiamo andare al Gargano adesso non posso stare troppo tempo qua a riprendere però vi assicuro che queste sono delle ottime luminarie anche qui vabbè per oggi è tutto qui a Zapponeta ci vedremo a presto con altre feste di altre città a presto